Bella a tutti ragazzi, oggi andremo su Superquare, in questa bucchissima puntata, la ricerca del tassi selvatico, che spesso è stato avvistato in questa pianura, in questa zona, in una collina, di mesi, anche in altre zone è stato avvistato ma non lo siamo mai riusciti, oggi pensiamo di trovarli in questa proprietà, siamo con la Palla di Lardo, e adesso andiamo. Oh, fate il silenzio che se no... Sssssh! Sentite? Sto sentendo il suo tipico rumore quando è in zona di riprosizione. Penso sia qua! E sentriamo! Ce la faremo! Ssssh! Andiamo! Prendiamolo! Andiamo! Prendiamolo! Visto! 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 E' troppo stancho, io ho le ossa che cadono qua, troppo diventano polvere, lui ha lardo, troppo lardo, non ce la fa far niente. Prendiamolo! Prendiamolo!